Angelo c'è un problema, allora io ho iniziato questo video, ok, senza fare intro e niente, perché sono entrato su Brookhaven e c'è una casa L'unico problema è che una delle red flag peggiori quando su Brookhaven qualcuno sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare Le tende chiuse Le tende chiuse al piano di sopra, che è dove è collocato il letto Se dopo questo video dovessi essere cancellato da Youtube, sappi che ti ho voluto bene e che ti affiderò tutti i miei canali in mano Io mi butto, io mi butto e provo a vedere che cosa succede Riescirò mai ad entrare prima che la bambina mi scoprirà? Credo proprio di no Alberto se la rischia, sì ma non so mettere il letto raga, sono proprio stupido Oh ma che caspita è? Ok vabbè sono entrato così Raga io spero di no, io spero di no, io spero di no raga, sto sperando di no con tutto me stesso No il letto è vuoto raga, non c'è nessuno No, che delusione Cos'è questo rumore? Di acqua Non sono in doccia vero? Spero di no, no non c'è nessuno Angelo Hanno lasciato qua la porta aperta, il lavandino, non è successo niente Io ho paura Hai paura? Ma niente succede, stai tranquillo Io ho paura, blu Sì sì un po' un po' di elusione, un po' di elusione, vabbè Allora c'è tipo una specie Ma ho appena assistito a tutta una rapina completamente a caso Adesso mi faccio trovare con la pistola e gli dico fermo Mani in alto Un cubazzo Questa è casa mia Cosa vuoi fare adesso? Mi hai rapinato, brutto schifoso Che cosa vogliamo fare? Ora mi ridai tutti i soldi Mi ridai, mi ridai tutti i soldi Ladro, dammi soldi Ladro Dammi soldi Ladro Cioè in realtà anche io Anch'io sono un ladro perché non ho le chiavi di questa casa Però dammi soldi Ladro Ladro Dammi soldi Dammi tutti i soldi Fbrigati Dammi tutti i soldi Dammi i soldi Che hai rapinato Ti ammazzo Ti ammazzo se non mi dai soldi Guarda che non è che sono più basso di te Allora fai il figo Con due spade Dammi soldi Devo fare un attimo una cosa Immaginati dire così a una persona che ti punta il ferro addosso Ti rendi conto? Cosa sto facendo esattamente? Dammi i soldi Dammi i soldi Dammi i soldi Dai Dai Chiudiamola qua Chiudiamola qua Dai Chiudi Ecco Grazie Dammi i soldi Grazie E non ci provare mai più eh Comunque questa non era casa mia Ho rapinato il rapinatore Ragazzi Questa è roba Che solamente Xiao può fare Solamente Xiao può fare Cioè immaginate aver rapinato il rapinatore Cioè c'era tanto di bacon scritto gigante sul logo della casa E infatti ho scritto Poi sarei io il ladro Vabbè Mi dispiace Troppo tardi Ormai i soldi mi li dati a me Chi se ne frega Ho preso i nostaggi un maranza Sono veramente tanto contento Tanta tanta roba Angelo Cosa ne pensi? Aspetta che c'è la casa di Poppy Playtime Come l'ha scritto? Penso che dovrebbe Oh mio Dio Oh mio Dio Cosa sto vedendo Andiamo a andare a casa di Poppy Playtime Scritto proprio Playtime Popo Playtime Oh ma Oh ti giuro È la cosa più difficile del mondo Mettere un letto qui Mea dota per favore Che questo c'ha la casa E vuole essere adottato Ma per chi mi hai preso? Per proprio obbligatore? Cosa vuoi? Dammi, levati Sì veramente raga Fa paura sto gioco Sì sì Roblox ragazzi fa paura Cioè in realtà La gente ha paura dei giochi horror Ragazzi Roblox in sé È un gioco horror Secondo me Cioè Brookhaven stesso È un gioco horror Non è normale Che ci siano certe persone A giocare all'interno Guarda cosa sta succedendo qua Maria Papà Noel Cioè boh È arrivata mamma Natale A casa con una Lamborghini E loro ci credono Boh Comunque serve Dobbiamo andare in un server italiano Questo è spagnolo Non ci piace la Spagna Cioè ci piace Ma non sono Brookhaven All'aspetto che qua C'è uno squadrone gigante Di maranza Mi ha fatto molto piacere Conoscerti Ci sono degli inciucci amorosi Qui ragazzi Occhio perché potrebbe Potremmo essere arrivati In un bel serverino Attenzione Capito? Ok Sì 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 Esatto Pluscino Cioè ho Pluscino Via Cioè ho Pluscino Vai Vediamo che succede qua Cosa dicono i ragazzini Buonanotte Eila Siamo come fratelli Tale Ma guarda Ma questi sono i maranza supremi Ragazzi Madonna Questi sono i Iper mega super Iper Ma chi Ma chi Ma perché lei viene dalla strada Fra La strada e lei Sono una cosa sola Sì ma la strada di Di Gerusalemme Come quello Come Gesù che camminava Con i sandali Fra la strada e lei Sono una cosa sola Lei non ha paura Fra lei cammina in mezzo Alla strada Perché la strada è Albe tu devi farti controllare Oddio raga Un maranza vuole adottarmi Dai Adottami Oddio Ange vengo adottato Da un maranza Su Brookhaven Roblox Ma che ca Ma sei tu Non sono io Perché è diventato una papera Oh mio dio Oh mio dio Un mega maranza papera Abdul colpisce ancora Cosa Ma Abdul Ah anche Ledless E il Corblox È ricco Dove mi sto portando Angelo Ho paura Il tuo sosia malvagio Però è ricco Cosa vuol dire ricco Vabbè che comunque Non ti poteva andare peggio Dai Ma come cammina Sembra uno stickman Ho paura Questo mi rapisce Mi uccide Mi taglia la gola Mi porta in cantina sicuro Figlio Solo perché è vestito da papera Dimmi papà Sei più bello di tuo padre Vabbè non è che ci voglia tanto Grazie Che carino Ma come si chiama sto tizio su Roblox Mio papà si chiama Aaron Ma Elvis Aaron Presley Prendi te casa Va bene Cioè il tuo figlio deve prendere la casa Boh Vabbè Non è un po' così eh Vabbè Facciamo Dai la casa cillante Dai Voglio vedere come un Maranza Mi tratta da genitore Cioè questo è un Maranzange Ragazzi voglio le fanart Solo una domanda Ma non uscire Ho paura Dimmi Sei il vero? Non sono il vero Ora mi abbandono in mezzo all'autostrada Palesemente Fa niente Eh no È perché altrimenti ragazzi Gli dico che sono il vero Eh posso comunque essere Tuo figlio Per favore Papà va dai Papà non mi abbandonare In mezzo alla strada Va Ma dovevi dirgli di sì Ma scusa ma se sei il vero Ma tu sei proprio asino Boh Ha quittato Angè Cioè il vero Xiao Ha la chance di farsi fare il video Di farsi dottare dalla Maranza No non sono il vero E si fa trollare il video Bravo È una vergogna È una vergogna Ma ti rendi conto? In casa sia Sono al becerzo che mi rendo conto C'è un Maranza Quindi è constatato Angelo I Maranza non possono avere figli Cioè ma ti rendi conto? It's none of my business bro Io da questo momento odierò tutti i Maranza No scherzo però Cioè ma ti rendi conto? Mi ha lasciato da solo come un cane Bastonato Cioè ma ti rendi? Corro Adesso mi faccio adottare da loro Adesso mi faccio adottare da delle Maranza Mi adottate please Vi prego Due mamme Due mamme voglio Voglio due mamme Due mamme Dai adottatemi per favore Due Maranza Baby fake Xiao è qui per noi Puh Dai ti prego Raga ma non abbiamo adottato nessuno Adottami porfavor Non sono fake Sono pieno di soldi Guarda sto avatar Maria Ti prego Ragazzi non mi vuole nessuno Cioè ma ci rendiamo conto di quando sia un'ingiustizia questa vita? Mi dispiace non adotto Mi sa che ti sei scordato la Corblox Ma in realtà ce l'ho Ma in realtà ce l'ho Eppure le Adles Ce l'ho Cosa dici che non ce l'ho? Guardami Cioè scusami Cioè Angelo manco con la prova Mi credono Io non posso credere Mi viene veramente da piangere Sei il vero Xiao? Sì Io Sì Sono io brother Non mi adotta nessuno Angelo Godo un botto Ma come godi? Mamma che goduria Giura il bello Nella casa dei Maranza La 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 Goda 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 Ora a casa ci posso pigliare la tutta a fuoco Tutta va brucio Tutta la brucia a casa Va brucio tutta a casa Questa è come Non mi salutare la casa dei Cuguit Esatto Scusa Non mi bannare dalla casa Please no ban Please please no ban Allora Vorrei essere adottato Da due Maranza Vi prego Vi scongiuro Cringi Maranza Sorry California Dai adottatemi Marenze Come si chiamano le Maranza al femminile? Le Maranze? Le beddi Le beddi Vero Tale kidda I sopraccigli Ciao Ma ci volete All'occhio Io non sono emo Dai Sono emo io No Io c'ho i fiori nella tuta gold Ma come no? Sì super emo bacca E mi bacca Adesso iscrivo Ragazze Sarete Su Youtube Vi siete Appena Mangiate La possibilità Di fare un video Con me Complimenti Ciao Godo Godo tantissimo Godo E io questo video Lo pubblicherò E ci rimarranno Valissimo Così imparate a non credere Alle persone Godo All'angelo Ho messo Casa 33 Se qualcuno Lei vuole adottarmi Io Oddio Angelo Ma si sono trasformate così? Vi prego Vi prego Livello 100 Mafia boss E vai Sono felice Angelo Sono stato adottato Da una famiglia di Maranza Richiesta carry Accetto 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 Carry on Carry on Aspetta Aspetta Mi devo cambiare anch'io Anch'io voglio diventare un Maranza Però Aspetta Aspetta Devo diventare anch'io un Maranza Sbam Aspetta però Divento piccolo Tranquillo Divento un piccolo Maranza Adesso ci siamo Ora si che ci siamo Le sghere Raga Fammate le emoticon con Maranzius Ora si che ci siamo Cosa facciamo Mamma e papà Portatemi A fare cose da figlio Cosa sono le cose da figlio? Le cose da figlio Dai 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 Che sono al mondo Proprio Free Shiva Free Shiva Free baby gang Free baby gang Angeli Mi vogliono insegnare a rubare Vai Sì Andiamo a fare le rapine Vai 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 Peti Nero Lo sguardo col dompero Vai Andiamo a fare le rapine Vai Così una famiglia Maranza La mamma e il papà Che ti aiutano a fare le rapine Ti aiutano a rubare Perché così vive la gente Perché così vive la gente di strada Capito Angelo Io sono un duro Come il mio papà No Tu si asano Scusa Siamo a ballare la Sturdi Non posso sul Roblox Altrimenti devo fare Le sgoschi Sorriso Nike Vai 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 Vediamo Ma come si chiama? Ma questo è il suo avatar originale Bello Molto bello Vai dai Prendi una bella macchinina Bohòia Con la limusine Si va a rapinare Aspetta che mi prendo un fucilazzo grosso Quanto ho proprio Papà andiamo a ballare con la limus Guarda qua Guarda qua Guarda che fucilazzo che c'ho Sbem overall Vai 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 Come? Si va a rapinare con la limus Ma si è già rotta la macchina Ma dov'è il ludo? Dov'è il ludo quando serve? Perché il mio fratello non viene mai ad unirsi a me? Perché non viene il mio fratellino? Anche lui dovrebbe farsi adottare Aspetta però mi devono insegnare come si rapina Quindi Allora si prende la carta Si prende la carta Via 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 Si prende la carta Vai mamma fammi vedere come sei bravo a rapinare Vai 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 La metto io l'esplosione Mamma sto tranquillo Non ti preoccupare Fai scoppiare tutto Vai Picchie sorda, ma picchie sorda, ma scappamo, scappamo Via, via, da qua, da qua, da qua Da qua, come ci insegna Come no? Non parlano in siciliano? Mamma, mamma, non so come si scappa Via, 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 via Dai condotti, dai condotti, dai condotti Ok, 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 ragazzi, ce l'abbiamo fatta Ci siamo riusciti a scappare Siamo riusciti a scappare e la sbirraia Non ci ha presi la sbirraia Via, 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 via Non li abbiamo presi, i coppi, officer Le guardie Via, 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 via Sono uscito, sono uscito Mamma, c'ho il mallop C'ho gli sordi, ma C'ho gli sordi Abbiamo preso i cinque piotte, papà Abbiamo presi i s... Oh mio Dio Vai, 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 portiamoli a casa Portiamoli a casa Portiamoli a casa Via, subito a casa Portiamoli Vai, 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 vai C'ho gli sordi, c'ho gli sordi Andiamo, andiamo, andiamo Mamma mia Raga, voglio subito finire Ed Proprio Ed Voglio subito finire questo video Perché voglio ascoltarmi la canzone dei gormiti Vai, 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 portiamola a casa Veloce Dobbiamo portare Nella nostra bancoforte Nella nostra cassaforte Oh, piano Papà, ma come guidi? Ma sei cieco? Via, 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 via Subito, subito, subito Subito con i soldi E mia mamma che è criminale Proprio mamma criminal Incredibile Mamma mia, incredibile Allora, andiamo, andiamo, andiamo Subito, subito a depositarli Subito proprio a depositarli Proprio nel letto dei nostri genitori Via Proprio i cash Proprio i cash No Proprio i cash Allora, cos'è? Aspetta, aspetta, aspetta Com'è che si fa? Con i props Con i props Prendiamo i props Prendiamo i props Ok, guarda Guarda quanti soldi ci abbiamo Mamma Proprio siamo Proprio stiamo navigando In mezzo ai cash Popo, guardaci Guardaci quanto siamo ricchi Mamma e papane E papane Bo Ragazzi Questo penso che sia il video Più insensato del mondo Ci vediamo alla prossima Grazie mamma Grazie papà Pubblicità l'abbiamo fatta questa volta Grazie a tutti i nostri genitori Grazie a tutti i nostri genitori Grazie a tutti i nostri genitori